Guagna, buongiorno. Tanta guagna per tutti. No, perché? Dai, saluta. Tanta guagna per tutti, ragazzi. Tu? Non ti presenti? Tu sei back. Lui è Zanzo, lui è Zanzo, è il nostro fotografo, regista ufficiale di Guagna. Tanta guagna per tutti, ragazzi. Grande capo. Mr. Blue, presidente di Guagna. Ciao a tutti. Dai, non essere timido. Cosa devo dire? Non so, balla. No, 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 non credo proprio. Red? Ciao, zio. Ma a cazzo, ragazzi, a cazzo. Bene, ragazzi, sono tutti dietro a lavorare con il loro bel Mac. Non è che io. Fate finta. Saluta. Ciao a tutti, ragazzi.